Alfonso Signorini nel suo editoriale sul nuovo numero di chi, ha voluto ringraziare i medici e gli infermieri che gli sono stati vicini nei due giorni in cui è rimasto ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il direttore e conduttore del Grande Fratello ha speso parole di stima e riconoscenza, esaltando non solo la professionalità ma l'umiltà con cui il personale sanitario si approccia ai pazienti. Di recente mi sono ricoverato al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco, così inizia l'editoriale di Signorini, ho conosciuto medici straordinari, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, che arrivano alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie, e che trovano ancora il tempo per venire in camera tua, nonostante la stanchezza stampata sul volto, a chiederti come stai. Esistono infermieri e infermiere che sanno ancora abbracciare, ha poi aggiunto, che conoscono anche il valore di una buona parola, e anche il gusto di una sana risalta per sdrammatizzare l'attesa del responso di un esame. Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell'anestesia, è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo, è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali. E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d'amore. Nulla di preoccupante quindi, solo alcuni controlli medici che hanno però richiesto l'anestesia, secondo quanto racconta il direttore di chi. Ma nessun dettaglio aggiunto circa la patologia che ha reso necessario il ricovero, mentre anni fa il giornalista aveva parlato, solo a posteriori, di una battaglia vinta contro il cancro. Appena uscito dall'ospedale Signorini ha riassaporato il profumo della vita, ho respirato a pieni polmoni, non solo per il sole che mi scaldava la pelle e l'aria che sapeva d'estate, ma perché avevo davvero toccato con mano l'amore. Sì perché l'amore esiste anche e soprattutto quello che si manifesta tra persone che non si conoscono e che ci fa sentire connessi, empatici con la vita e il cuore degli altri. Non è retorica, credetemi, è qualcosa di bello, a cui non siamo abituati. E se la sofferenza serve a qualcosa, certamente serve anche a prendere coscienza di questo. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.